il mal di fiemme ancora una volta dopo la qualifica il migliore anche in gara con un salto pazzesco di 106 metri in sua carriera, Jarl Magnus-Rieber, ma solo a 22 anni fa, si prenderà l'ultimo e sarà anche il vincente per la partita di Ski-Jumping da Herra Faist, Oltrebro, Vierostad Reel, Vierostad Reel, Vierostad Reel, Lapartan, Gruber, Gromag, Bunt, Vincent, Skygar, che prende l'ultimo per 22 secondi.